voi dovete essere educati, non dovete fare sceneggiate e già quello che avete fatto mi impedisce di parlare perché dovete fare persone serie io non sono abituato a fargli imporre i dialoghi da nessuno è chiaro? Per me basta si è sempre contatto la legge ancora non pagata nulla, la legge non ha pagato nulla, la legge non ha pagato nulla, la legge non ha pagato spesso Mi è stato già detto quello che penso, io non ho fatto fare niente, dovete parlare con chi ha fatto la selezione, state dicendo stupidanti, abbiamo lasciato fare le persone bucate, non parla chi fa queste buffonate, come non parla chi fa le buffonate? Abbiamo una soluzione, ci ha scosti 5 minuti, siamo qua da 116, basta con le buffonate, siamo in una situazione di lavoro, per favore.